Parco, la galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato di Pordenone, propone a partire da dicembre 2011 tre nuove iniziative promosse dall'amministrazione comunale. Due mostre inedite allestite nella nuova galleria consentiranno di approfondire le poliedriche personalità artistiche di Tonino Guerra e di Alessandro Bergonzoni. Gli spazi espositivi di Via Bertossi ospiteranno invece la rassegna biennale di architettura Premio Marcello d'Olivo 2010, dedicata a opere realizzate in Friuli Venezia Giulia dal 2002 ad oggi. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti, la presidente di Appio Arte e Architettura, Moira Morsut, i vertici di altri sodalizi che concorrono all'organizzazione degli eventi culturali e l'assessore comunale alla cultura, Claudio Cattaruzza. Inizieranno a dicembre, si concluderanno a fine di gennaio, riguardano prevalentemente tre mostre. La prima si inaugurerà il 3 di dicembre presso la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato, una mostra dedicata a Tonino Guerra, a tutta la produzione pittorica, libri d'arte, ceramiche, sculture di Tonino Guerra. La seconda, che si inaugurerà il 17 di dicembre presso la Galleria d'Arte Moderna e di Alessandro Bergonzoni, che coniuga diversi linguaggi artistici e mette un po' in relazione quello che è il funambulismo letterario e culturale di Bergonzoni. Ed infine un'altra mostra che si terrà invece gli spazi espositivi di via Bertossi il 10 di dicembre e l'ottava edizione del premio Marcello Dolivo e quindi la seconda biennale di architettura, che vedrà l'esposizione di tutti i progetti che sono stati realizzati in Friuli Venezia Giulia in questi ultimi anni e che ha visto come vincitori del premio uno studio di architettura pordenonese. Grazie.